A Lecco sono arrivate oltre 25.000 dosi di vaccino bivalente contro il Covid. Le prenotazioni sono aperte, sebbene non a tutta la popolazione, ma in questa fase solo ai pazienti fragili e agli over 60. E da mercoledì 14 settembre all'ospedale di Lecco la quarta dose sarà somministrata con il nuovo vaccino che copre contro le varianti Omicron. Uno scudo in più contro la pandemia che per la verità ora è, almeno nella nostra provincia, ai minimi storici. Oggi sono solo 9 le persone ricoverate con il Covid al Manzoni. Un segno che i vaccini comunque funzionano, considerato che spetta alla nostra provincia il record a livello lombardo per la popolazione che ha ricevuto la prima dose, l'81% dei residenti, per la seconda l'87% dei residenti e persino per la terza, alla quale si è sottoposto il 71% dei lecchesi. Discorso diverso per ora per la quarta dose alla campagna di vaccinazione, a oggi è aderito solo il 6% della popolazione. Il nuovo vaccino, in grado di contrastare efficacemente anche le ultime varianti, può spronare anche chi, pur avendo una condizione di fragilità o essendo anziano, non si è ancora sottoposto al booster. Chi invece non si è ancora sottoposto al ciclo vaccinale e ha deciso di iniziare, lo farà con i vaccini di vecchia concezione.